Ciao a tutti raga, bentornati sul canale da Marco Azzurro Torniamo anche quest'anno col mercato che farei ovviamente del Napoli Però ragazzi, dato che quest'anno la maturità, dopo l'esame di maturità Avrò tantissimo tempo libero Quindi se volete anche il calciomercato che farei di altre squadre ditemelo Oggi comunque vi preavviso che sarà un calciomercato che farei diverso dagli altri anni Proprio perché ho meno tempo, non andrò esattamente a vedere la situazione dei giocatori E quindi a fare un prezzo io Ma prenderò solo i prezzi che sono scritti su Transfer Market Quindi non potete confutare in nessun modo quello che farò Comunque, vi ricordo come sempre il calciomercato che farei io Scrivetemi qui sotto quello che farete voi, anziché criticare le mie scelte Direi di partire subito con i portieri ragazzi Ho stanziato un budget di 60 milioni, dato che il Napoli quest'anno è in Champions E ci vuole un budget un pochino più alto Quindi direi di partire con i portieri Il Napoli va Meret, Ospina e Marfella Io cedo Ospina Parto subito così a raffica Cedo Ospina, voglio puntare su Meret Ospina parte a zero Quindi non ci sarà alcun guadagno E al posto di Ospina voglio prendere Salvatore Sirigu Per due milioncini dal Genoa Ovviamente due milioni è il prezzo di Transfer Market Quindi in porta avremo Meret, Sirigu da Chioccia e Marfella Direi di andare ai difensori centrali Koulibaly lo voglio tenere Rahmani lo voglio tenere Wanjesus lo voglio tenere Tuan Zebe tornerà allo United perché il Napoli non lo riscatta Quindi non lo riscatto nemmeno io Anche perché non mi è piaciuto come giocatore E al suo posto o meglio come terzo difensore Prendo un difensore coreano che io ho imparato ad amare Nell'ultimo mese Sto parlando di Kim Minjai del Finale del Pace Per 15 milioni di euro Prendiamo lui Gran difensore, ottimo come terzo Veramente tanta roba Reparto difensivo secondo me è completissimo Con questo colpo Ovviamente tenendo Koulibaly Terzini Secondo me nei terzini c'è poco da fare Ragazzi io terrei Di Lorenzo Terrei Zanoli come secondo Perché voglio puntare sui giovani italiani Terrei Olivera che logicamente è appena arrivato E terrei anche Mario Lui Venderei Malqui per altri 2 milioni Quindi facciamo un po' di cassa con la sua vendita I terzini per il resto vanno bene così A centrocampo A centrocampo ecco che farei la rivoluzione Perché Zierischi ragazzi lo terrei Lo vodka lo terrei per la grande stagione che ha fatto Zierischi perché secondo me c'è ancora margine per lui di crescita Fabio Ruiz va venduto ragazzi E anche Demme che ormai è a fine contratto Quindi Demme se ne parte 0 Fabio Ruiz lo vendiamo a 55 milioni di euro E il nostro budget così cresce a livelli assurdi E al posto di Ruiz Andrei a prendere Paligna da Lisbona ragazzi Voi dite chi è Paligna? Beh è un giocatore brasiliano Anzi portoghese se non erro Che il Napoli aveva puntato verso l'inizio di febbraio Comunque era apparso come nome A me piace tantissimo 25 milioni di euro e ti porti a casa Un bel centrocampista ma c'è ancora uno slot da coprire Ovvero quello di Diego Demme Al posto di Demme ragazzi Io proverei un miracoloso ritorno in patria Di Giorgio Luis Giorginio Ditemi quello che volete voi Però Giorginio ha un prezzo che è calato E secondo me con 28-30 milioni Te lo puoi portare a casa Quindi Giorginio ritornerà in patria E infine Passiamo agli attaccanti Come io farei questo per il centrocampo Passiamo all'attacco In attacco Politano Lozano Unas Il neo arrivato Kvarskelia Formano le fasce Secondo me per quanto riguarda la fascia C'è un'incompletezza Perché Unas può giocare a tutte e due le fasce Ed è vero Ma Kvarskelia non può essere il titolare del Napoli Quindi io andrei a seguire le voci di mercato Che vogliono Deulofeu vicinissimo al Napoli E quindi spenderei 20 milioni Per portarmi a casa lo spagnolo Secondo me si formerebbe una bellissima fascia Con Giorginio e Kvarskelia Dall'altra parte Lozano e Politano E Unas che farebbe un po' il jolly Diciamo così Per quanto riguarda l'attacco Mertens, Osimè e Petagna Secondo me sono troppi Mertens se ne va Anche perché io ho detto che voglio tenere Kulibali Secondo me il Napoli Se tiene Kulibali non tiene Mertens E quindi io lascerei andare Mertens Comunque un giocatore che ha avuto la sua gloria a Napoli Lo lascerei andare E lascerei andare anche Petagna Che vale circa 12 milioni Per quella cifra lo lasciamo andare Anche il nostro Petagnone E ragazzi ci vuole semplicemente Un giocatore che faccia da vice Osimè e io prenderei Diego Simeone dal Cagliari Simeone che ha un cartellino Di 18 milioni Secondo Transfer Market E quindi chiudiamo Il reparto offensivo Con Simeone Quindi ragazzi La nostra squadra è questa Ditemi cosa ne pensate Del mio mercato che farei Del Napoli Noi ci vediamo alla prossima Iscrivetevi al canale Ditemi il vostro mercato che fareste E io vi rispondo nei commenti Ciao a tutti Ciao a tutti